Vabbè si può consigliare senza problemi, c'è un signore che mi ha insegnato la mia ragazza fortunatamente, che si chiama Enzo Sorrentino, a non confondere con Paolo, con il fratellastro, e fa dei film amatoriali, lui è di, mi pare che sia di Salerno, e fa dei film che stanno su Youtube, che sono molto belli, l'ho fatto pure a Maccio Capatonda, e ha fatto questo è il vero cinema, ed è molto divertente, ovviamente ridi sia della cosa, ma anche con la cosa, non è solo, è bello da vedere. C'erano degli animali, mi ricordo, animali digitali, praticamente lui scopre, il regista Enzo Sorrentino, evidentemente gira, e poi quando porta a casa gira su un software che sarà stato non Final Cut, non sarà stato una cosa tipo Sony Vegas o Windows Movie Maker, e quindi lui ha, tu vedendo il film capisci che lui montandolo, ha visto che si potevano aggiungere animali digitali al film, e tipo mentre uno parla di un'altra cosa c'è un elefante enorme dietro, che prima è più grande, poi la prospettiva è sbagliata, e quindi è bello, è pieno di queste cose, è pieno di queste cose. Ma invece, stiamo andando verso le questioni, una cosa di cui hai parlato, di Joe Miller now? Sì. Tu, Joe...